Salubificio Brugnolo Salubificio Brugnolo è un'azienda di 70 anni, nata nel 1951, fondata da mio suocero. Noi la stiamo portando avanti, che non c'è più, è mancata nel 2005. Produce essenzialmente salumi, prosciutti cotti, salami, coppe, pancette. È sita in Vigonza Padova e ha un secondo stabilimento in Porto Vino Rovigo. Stabilimento che portiamo avanti con orgoglio, produciamo prodotti italiani, serviamo l'Italia per primo e il resto d'Europa. La collaborazione con Pallavoro Padova è iniziata ormai da più di 11 anni. Siamo entrati tramite i fratelli Tonazzo come sponsor all'inizio. Abbiamo fatto la promozione della A2 e la A1 e là sono entrato anche nel consiglio di amministrazione. Siamo sempre rimasti sponsor e dopodiché ho preso in mano anche la presidenza della società. È stato ed è un percorso interessante perché alla fine si uniscono delle forze, si conoscono tante aziende perché siamo in un network di più di 100 aziende. Si possono scambiare relazioni, rapporti, affari, amicizie. Lo sport è l'anello di unione. Il network della società Pallavoro Padova è quello che unisce tutto ed è un orgoglio partecipare. Innanzitutto lo vivo con grande responsabilità perché è un ruolo di grande responsabilità. Però nello stesso tempo lo vivo anche con molto orgoglio, con molta soddisfazione perché dopo tanto lavoro bisogna dire che è difficile mandare avanti una società a trovare le risorse e a raggiungere gli obiettivi. Gli obiettivi nostri, come ben sapete, in questi ultimi anni purtroppo è la salvezza, però siamo fiduciosi di poter trovare delle risorse per portare questa società a un livello più alto perché se lo merita soprattutto per la presenza importante di un pubblico assiduo ad ogni gara. Una grande soddisfazione personale è vedere il logo della propria azienda su delle maglie e il pallavolo di Serie A è una soddisfazione che ti premia per il lavoro che svolgi, però è anche importante far vedere il tuo marchio ai consumatori perché noi facciamo un prodotto che viene consumato sulle tavole degli italiani e vedere il proprio marchio, che lo possono vedere le persone che vanno a fare la spesa per noi è qualcosa di importante. Io consiglio sicuramente di entrare in un network dove oltre a quello che è gioco, a quello che è sport, si fa parte di un gruppo di imprenditori dove ci si possono scambiare dei rapporti di lavoro, di amicizia e questo è fondamentale, ci aiuta tantissimo la parte giovanile perché la nostra società ha una parte importante di giocatori, il tallone importante che sono tutti giovani, li facciamo crescere, li facciamo diventare dei campioni e questo qua, entrare a far parte di un network vuol dire aiutare i ragazzi che ne hanno bisogno adesso a diventare dei futuri campioni.